Buongiorno, mi chiamo Pierluigi Gasperoni, sono il Marketing Manager della DTS. In due parole, cos'è significato per noi essere qui al Prolight & Sound che è, fra virgolette, la vera fiera mondiale, più di qualunque altra, ed è il luogo in cui si portano effettivamente i nuovi prodotti e le nuove tecnologie per farle vedere al mondo intero. Abbiamo portato i picchi della nostra tecnologia, che in questo caso sono le due teste mobili Max e Raptor. Brevemente, noi circa un anno fa abbiamo lanciato un progetto tecnologico chiamato High Power Compact Moving Heads, praticamente come ridurre le dimensioni e i pesi delle macchine, come renderle sempre più efficienti dal punto di vista della luminosità contro i consumi e come renderle sempre più adatte ad un utilizzo rental estremamente spinto. Voglio dire, il primo progetto della serie si è concretizzato circa un anno fa con il Jack. Il Jack era la macchina, la testa mobile, che ha lanciato un nuovo standard di mercato, tre macchine in una, cioè nella stessa testa mobile un beam, uno spot e un wash. Non era mai successo, è stata apprezzata per questo e ha aperto una nuova strada. Ora abbiamo spinto sullo stesso versante tecnologico con il Max. Il Max addirittura ha inserito quattro macchine nella stessa testa mobile, aggiungendo una bellissima funzione teatro, che è presente solo in macchine dedicate al teatro. C'è un bellissimo fascio molto compatto, molto potente, con i looks, stessi looks in ogni punto del fascio, perciò un fascio estremamente omogeneo e diffuso. L'altra macchina che abbiamo presentato è il Raptor, che invece è un beam puro, ed è in questo momento il beam più luminoso che esista sul mercato, quello con il movimento pan e tilt più veloce, con la scansione gobo e colori più veloce, e ancora con l'effetto strobo più veloce. Ma soprattutto è una macchina da 1.344.000 lux a 5 metri, addirittura a 120 metri di distanza, non vorrei sbagliarmi, ma ancora sui 4.000-4.500 lux, che è una cosa quasi impensabile e pesa pochissimo. Vi invito a provarla, è veramente piccolissima. La testa è grossomodo grande come un pallone da rugby.